81 euro e 70 Penso di aver preso tutto Oh, andiamo a mangiare? Non faccio più Raga, voi dovete fare due cose Dovete dirmi se preferite McDonald's o Burger King nei commenti E soprattutto se volete un'altra sfida così Però fatta al Burger King dovete arrivare almeno a 10.000 like Ragazzi, io sono Pepys del Futuro e vi dico che all'interno di questo video Ho nascosto tre numeri Guardatevi tutto il video E scrivetemi qua sotto nei commenti i tre numeri Nel prossimo video saluterò 4 di voi che li hanno trovati Ovviamente non copiate perché poi se sbaglia uno sbagliate tutti ed è capitato un botto di volte Quindi cercateli all'interno del video E intanto saluto Ubi2009 e MaggieCretu Se volete essere salutati trovate i numeri, attivate la campanellina e lasciate i like Vi lascio al video Hola trollini, qua è Pepys Benvenuti in questo nuovo video Raga Cioè, che avete combinato in questi ultimi due o tre video che ho pubblicato A parte il clamoroso supporto che mi avete dato Cioè, assurdo Grazie di cuore Proprio Non me lo aspettavo minimamente Grazie di tutto Nonostante tutto ciò che sta succedendo Ci siete voi, mi state dando tantissima compagnia Quindi io vi ringrazio Oggi per voi ho deciso di fare questa cosa Un po' per voi, un po' anche per me perché ho fame Andare appunto al McDonald's e comprare tutto Tutto ciò che c'è nel menu Fino, cioè, io spero che di potercela fare Non credo che viene tipo 300 euro di spesa Però fino a un centinaio penso di poter rientrare Quindi vado lì e faccio Ehi, io voglio tutto Ehm, siccome non mi va di andare da solo Stavo pensando di portarci il papayos Quindi andiamoglielo a dire perché non lo sa ancora Ciao, bà Ciao Dobbiamo registrare Registrare cosa? Ci dobbiamo mettere in macchina E dobbiamo andare al McDonald's A fare più A comprare tutto ciò che hanno Tutto, ma tu sei pazzo Tutto, ogni singola cosa Del menu Ma che si faccia? E penso, se guardate quanto se ne andrà Eh, non lo so La vecchia Madonna Però poi ce li mangiamo Quello è il bello Eh, va ti voglio A te piace il McDonald's? Per niente Perfetto, quindi papà Ma tu sei mai andato il McDonald's? No, non mi ricordo Cioè, da quanto Da un botto Che noi non andiamo mai al McDonald's Quindi non lo dico padre Lui no Quindi, secondo me ci sono alcune cose Che non ha assaggiato tipo Le patatine col bacon o no? Vedi, lo sapevo Quindi mo ci mettiamo in macchina Andiamo, compriamo tutto e torniamo E mamma non sa niente Che tornerà in sala tipo Ok Andiamo? È stato facile il cominci Tanto paga lui 31,70 euro Penso di aver preso tutto Raga, buste piene Papa pieno Abbiamo pure questo qua Perché non c'era la... È solo così Cioè, raga Io non vedo l'idea di andare a casa E mangiare Ho speso un botto Vi ho fatto vedere Non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere Comunque ve lo dico Comunque arrivo a casa E c'è una novità magnifica In questo momento sono senza soldi Perché il totale è venuto 84 euro Qua abbiamo un mega scontrino E ora vi faccio vedere bene E sul tavolo ho già preparato tutto Guardate Panini su panini Qua ho preso i McNuggets Ho preso dei panini che Boh, questo qua è tipo gluten free Mai assaggiato in vitamina Qua La piadina Altra piadina Panini Le pepite di non so che Raga Il devasto Eh, qua ho pagato io Devi chiedere il permesso per mangiare Va bene, va bene Tu che cosa conosci di queste cose? Quasi niente Beh Eh, io vado al McDonald's e poi Questo Sì? Questo, il toast Allora a te ho preso Per te ho preso questa Bellissima Raga, che poi che cosa ne sapete? Praticamente vi ricordate il video Dove io e mamma passavamo cento volte Al McDrive C'era Deborah Che Mamma E' arrivata Mamma non ti spaventare Non ti spaventare Ti devo far vedere una cosa bella Vieni qua Ma fra tinta? No, no, basta Tinta No, nessuno se l'è fatta Vado? Uno Due Tre Oddio Il paradiso L'improvviso Se che doviene tutto questo paradiso L'improvviso Sparo una cifra Trenta euro Ottantaquattro Quanto? Ottantaquattro Sei matto? Però ora possiamo mangiare tantissimo Ehi giù le mani Quella è la cosa più buona che abbiamo assaggiato E' buonissimo Ma tutto per me, grazie No, per te ho preso l'insalata Insalata? Per te papà Vedi, sono due Scordatelo Perché dopo il video triste che è uscito l'ultima volta Si sa che bisogna annecarsi nel cibo Ci manchi, grazie Vabbè Vabbè Quindi mangiamo Raga qua c'è lo scontrino Se volete controllare voi le cose che ho preso Perché alcune di queste non le ho mai prese Però ora basta Ma sei scema Ma che stai facendo? Buona Che stai facendo? E' profumatissima la busta Di pittura del mcdonald Cioè raga poi voi dite Perché sei così? E ci credi Sono figlioso Non è che vuoi farci molto Allora io la prima cosa che voglio assolutamente mangiare E' questo ragazzi Questo dovrebbe essere Non lo so Devo dire la verità Non lo so Si sente di cipolla E' una cosa buonissima Nome Papius Cosa stai facendo? Sto mangiando l'impossibile McRap Che cosa è questa cosa che hai in mano? Questo è il McRap Una cosa buona? Non lo so Lo voglio assaggiare Ci fa l'olta? Allora io non l'ho mai mangiato Allora facciamo Ma basta voglio mangiare No facciamo una cosa Quello che mangi tu Voglio assaggiare pure io Esatto così voglio fare Alla salute C'ho la cuorina Pai c'ho la cuorina Non si fa così A me è morso Buono Non lo so Mi sembra buono Si solo che ovviamente è freddo Perché è passato Non lo cano Ma niente Come? Buono C'è un mix eccezionale E mo ti do la brutta notizia Quello l'ho mangiato prima Ma io con lo stesso cucchiaino Che schifazzo? Raga voi dovete fare due cose Dovete dirmi Se preferite McDonald's o Burger King Nei commenti E soprattutto Se volete un'altra sfida così Però fatta al Burger King Dovete arrivare almeno a 10.000 like Penso che ci sta Perché aspetta un botto Com'è buono Buonissimo Buonissimo Poi Facciamo un video dove lo regaliamo E senza tetto Come fanno tutti Quindi facciamo un botto di visual E buonanotte È vero Ovviamente non lo faccio ragazzi Ma mica si Cioè se le devo regalare a qualcuno Non mi faccio il video No Ma adesso arriverà un altro lino D'eccezione Eh Buono Ma stupendo Mi scherzo L'unica cosa che non ho preso Sono i panini speciali di Bastiani C'è alcuni Perché Non erano proprio del menù originale Del McDonald's E poi costavano un botto ragazzi Sinceramente Quindi decisi di non prendere Papà ha assaggiato qualcosa E gli è venuto mal di pancia In bagno È leggermente sensibile A queste cose Modalità Secondo Stiamo Stiamo Consumando calorie La trollina Ciao 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 Come sei fashion oggi Bella sorpresa Mi hanno detto Che gli sei mancata tantissimo Capito C'è una bella sorpresa Davvero? Sì Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Ok Vieni qua Ti tengo io Devi dire Chiudi gli occhi E apri la bocca E tra un po' la devi aprire la bocca Uno Due Tre Guardi Guardi Che delizia Ah no no Nessuno Si me la fa cosa Qualche venimento Qualche Qualche Ricevimento Regà Che tragica la situazione Qua non finiscono le cose Siamo in tre e mezzo Perché papà Com'è la situazione Precaria Mi devi mettere a me Tre e mezzo Che c'è Eh ma vedi che tu mangi Stai mangiando Eh sì Perché non l'ho mangiato Stamattina Siamo a questo punto Ora Siamo messi male Dai venite Venite a mangiare Cioè abbiamo mangiato Tantissimo Però la ruba Non finisce Io non so che cosa Da dove devo partire Voglio tutto Sì siamo mangiato Tutto di ogni cosa Non lo so Secondo me Molte cose le terremo Per domani Da parte Non lo so Vuoi mangiare dolce Salate Vai Alla te Nonna Oh andiamo a mangiare La faccio più E che facciamo Basta Basta Game over Dai Basta E che mangi Tutto io Mangia tutto Hai fame Un poco E va A mangiare Ciao La faccio più Dai Dai Ma come mi fai a mangiare Così tanto È bello mangiare Basta Raga Mi raccomando Se volete un altro video Così Col No vi prego Col Burger King No Niente like Ciao nonna Ciao nonna Lo rifacciamo un giorno Sì 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 Dai lasciate 10.000 like Così Mamma non è felice Ma nonna Si Mi fa caldo Si fa caldo Vedi Ci vediamo Martedì Con un nuovo video Mi raccomando Puntuali Passate su Instagram Mi raccomando 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 Mi raccomando